... di imprenditori, che fanno i politici dell'olio d'oliva, perché non si capisce, perché l'Estravergine va etiquettato con la visita dell'olio d'oliva, ce ne meritiamo ce ne meritiamo il problema è di risolvere i problemi non devi mettersi in questo, è quello che ah ci siete, c'è stato un momento che si diceva che dormivate tutti che mi stiamo raccontando che è quello che vogliamo fare questa mattina su come siamo messi in attesa del decreto rispetto a un demeto che stiamo cercando significa la morte siamo riusciti ad ottenere però a questo va accompagnato un percorso che cosa significa questo allora il futuro sappia dare anche chiarezza, perché quello che è avvenuto in questi cinque anni grazie a tutti